La prima entra qui, entra, va a mangiare, va a mangiare qui perché ci sarà qualche cosa da mangiare, quindi scatta. L'avevi fatto là? Aspetta. La prima entra nella parte opposta, va a mangiare e qui scatta e rimane all'interno. Poi c'è un'apertura nella parte superiore, le altre entreranno da qui, si possono qui, vanno a mangiare, però non possono ripartire perché la rete è messa in modo che non possono volare. Fai vedere quella che sta a mangiare.